ciao giretto da tedi per san valentino anche allora intanto ho fatto questa cintura la 55 quelle che non hanno i buchi ma inserite dentro poi all'appendamento sono queste 1 e 50 due mandi così vabbè qua c'era solo la m ma sono meno uguali questa è una s acqua c'è scritto uomini qua no perfetto comunque questo è un po maculata e poi con la linea di segno zodiacale un euro scranci col fiocchetto da 2 a 1 euro altro scranci col fiocchetto però da un 50 a 55 centesimi stessa cosa sganci col fiocchetto e poi niente questo mi piace tantissimo e ne ho preso un altro sui toni del blu però vero boh non lo so sì forse sì pagato 55 centesimi ciao ciao